Ciao ragazzi, parliamo qui di uno degli autori più belli e più importanti della letteratura italiana, Luigi Pirandello. Nasce a Giorgenti, l'attuale agrigento in Sicilia, nel 1867, in una famiglia agiata. Frequentò l'università di lettere prima a Roma e poi a Bonn, in Germania, dove si laureò nel 1891. Tornato a Roma si sposa con Maria Antonietta Portulano, la figlia di un socio del padre, da cui ebbe tre figli. Sempre a Roma conosce Luigi Capuana, altro siciliano come lui, e diventò anche professore universitario. Nel 1903 però accade un evento molto importante per la vita di Pirandello. La miniera di Zolfo del padre prima si allaga e poi crolla, e ciò determina una grave crisi economica e familiare. Si aggravano infatti le condizioni mentali della moglie, che diventa anche super gelosa del marito, il quale accetterà di farla ricoverare soltanto nel 1919, quindi anni dopo, in una clinica psichiatrica dove morirà a 88 anni. Tuttavia è proprio in questo periodo così turbolento che termina il suo primo romanzo di successo, ovvero il fu Mattia Pascal, che vediamo dopo. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu un interventista, cioè si schiarò con coloro che volevano l'entrata in guerra dell'Italia. E da notare anche che il figlio Stefano fu fatto prigioniero dagli austriaci. Il successo definitivo arrivò poi con l'opera teatrale Sei personaggi in cerca di autore nel 1921, ma pensate che alla prima rappresentazione a Roma fu fortemente fischiato. A partire dal 1924 il fascismo guidato da Mussolini impone la dittatura in Italia, e quindi anche Pirandello dovette un po' iscriversi forzatamente al partito fascista. Tuttavia se vediamo i personaggi delle sue opere, questi sono lontanissimi dagli ideali fascisti. E dal 1925 Pirandello si dedica completamente al teatro, collaborando anche con l'attrice Marta Abba, verso la quale probabilmente nutriva un certo amore platonico. Nel 1926 viene pubblicato un altro romanzo super famoso, Uno, Nessuno e Centomila. Pirandello così inizia a diventare celebre in tutto il mondo, e le sue opere sono rappresentate nei teatri di tutto il mondo, e addirittura diventano dei film. Nel 1934 riceverà anche il premio Nobel per la letteratura, e morirà a Roma nel 1936. Pirandello ha scritto moltissimo, e ha scritto un po' di tutto, dai romanzi, alle novelle, alle opere teatrali, saggi e persino poesie, che però sono meno conosciute. Tra i romanzi più famosi e più importanti abbiamo Il fu Matteo Pascal e Uno, Nessuno e Centomila. Se volete stupire i vostri prof facendo vedere di sapere di cosa parlano questi romanzi, vi lascio il link in descrizione per ognuno. Comunque qui facciamo una piccola sintesi. Matteo Pascal era un bibliotecario, che per fuggire da una vita infelice, un giorno va al casino di Monte Carlo, dove vince una grossa somma alla roulette. Però, mentre sta tornando tutto contento sul treno, legge il giornale e scopre che lo hanno dato per morto. Infatti era stato ritrovato un cadavere che somiglia proprio a lui. Così ne approfitta per farsi una nuova vita, un nuovo nome, si farà chiamare Adriano Meis, farà tanti viaggi. Tuttavia, proprio in mancanza di documenti, di una vera identità, non potrà vivere pienamente questa sua nuova vita. E così decide di ritornare al suo vecchio paesino, alla sua vecchia identità. Tuttavia scopre che la moglie si è risposata con un altro uomo. Così che il povero Matteo Pascal vivrà un po' in solitudine, ma ogni tanto andrà a visitare la sua tomba. Un pochino più complicato è Uno Nessuno e Centomila, che racconta la storia di Vitangelo Moscarda, il quale fa una vita ordinaria, ha una banca che ha eredato dal padre. Tuttavia, cambia tutto quando un giorno la moglie gli fa notare che ha il naso storto. Da questo evento banale, lui entra in crisi e comincia a riflettere e atturbarsi sul fatto che gli altri lo vedono diverso da come lui si è sempre visto. Scopre, cioè, di non essere Uno come aveva sempre pensato, ma esistono Centomila versioni di lui, perché gli altri lo vedono tutti in maniera diversa. E' l'uomo con il naso storto, e' il bancario, l'usuraio, gengè, cioè il marito affettuoso e mansueto, e così via. Ma lui non si riconosce in nessuna di queste versioni, di queste Centomila maschere che gli altri gli mettono addosso, finendo così per sentirsi nessuno. Così, nel tentativo di togliersi di dosso tutte queste maschere, inizia a fare delle cose che però appaiono folli agli occhi degli altri. In questo libro vediamo proprio il pensiero stesso di Pirandello, e cioè che è impossibile conoscere con certezza la realtà. Non esiste una realtà oggettiva e assoluta, ma ognuno la interpreta a modo suo. Addirittura non si conosce neanche la propria identità. Ognuno crede di essere uno, ma poi ci accorgiamo di essere in Centomila modi diversi. E se ci pensate, ragazzi, è vero. Siamo diversi quando stiamo con gli amici, o con i genitori, o con i professori, o con degli sconosciuti. Esistono centomila versioni di noi, sono tutte vere, tutte rappresentano una parte di noi stessi, ma al tempo stesso nessuna di queste è quella giusta, quella che ci identifica in uno solo. Pirandello parla di maschere, maschere simboliche ovviamente, però è esattamente come quelle degli attori di teatro, che le indossano per recitare diversi ruoli. Allo stesso modo ognuno di noi indossa delle maschere, a seconda dei contesti, a seconda delle persone che abbiamo di fronte. E lo facciamo più o meno consapevolmente per adattarci al contesto, alle situazioni, alla società. Lo svantaggio però qual è? Che alla fine quell'uno che pensiamo di essere si frammenta in centomila versioni di noi, e alla fine non sappiamo più chi si è veramente. Ci si sente nessuno. Altre volte invece sono gli altri che ci appioppano una maschera che non riusciamo più a togliere. Ed è proprio quello che avviene in una divertentissima novella di Pirandello che si chiama La Patente. Novella che però fa anche riflettere molto. Anche qui trovate il link in descrizione dove ve ne parlo in maniera un po' più approfondita. Ma semplificando si parla di un uomo, il povero Chiar Chiaro, che è stato additato da tutti come uno iettatore. E questa cosa gli ha procurato non poche sofferenze, infatti ha perso il lavoro, la sua vita è stata rovinata da questa fama di iettatore. Un giorno però decide di fare causa a due persone che avevano fatto degli scongiuri al suo passaggio. Tuttavia è evidente che lui perderà questa causa. Così il giudice lo fa chiamare per farlo riflettere, fargli ritirare le accuse, perché altrimenti se perde la causa dovrà pagare anche le spese processuali. Ma alla fine scopriamo che è proprio questo che vuole il povero Chiar Chiaro, perché perdendo la causa avrà un riconoscimento ufficiale, una patente che lo riconosce, che lo attesta come iettatore. In questo modo lui si aggirerà intorno ai negozi e i commercianti impauriti dalla iella, dalla sfortuna che porta, accetteranno di pagare una tassa per farlo andare via. Quindi alla fine ha accettato questa maschera di iettatore che gli hanno imposto gli altri, ma ha trovato anche il modo per trarne profitto. È una novella, se la leggete, che fa sorridere molto, ma fa anche pensare. Infatti Pirandello parla di umorismo, cioè una riflessione che va oltre la comicità iniziale e ci fa il famoso esempio della vecchietta tutta imbellettata. Dice Pirandello, se vediamo una vecchietta tutta imbellettata, cioè tutta truccata con la gonna, i capelli tinti, ci viene da sorridere, perché avvertiamo il contrario di quello che dovrebbe essere una vecchietta. Se però ci fermiamo un attimo a pensare e a riflettere sul perché si è conciata così, magari scopriamo che lo fa per la paura di perdere un marito più giovane, o magari perché non accetta la vecchiaia, perché si sente sola. Ecco quindi che avvertiamo il sentimento del contrario, cioè una riflessione che va oltre la comicità iniziale. Esattamente come nella novella della patente, inizialmente tutto un po' bizzarro, il povero iettatore ci fa quasi sorridere, però poi lo capiamo e quasi facciamo il tifo per lui. Pirandello scrisse più di 200 novelle, raccolte in novelle per un anno. Qui trovate anche la giara, il treno affischiato e tante altre. E infine tra le opere teatrali più importanti abbiamo sei personaggi in cerca d'autore. Anche questo è un'opera molto originale e per chi vuole approfondire trovate il video in descrizione. Anche questo è un'opera molto importante,